Diventa un caso il voto dei migranti alle primarie del PD a Dercolano. Immigrati che hanno raccontato di essere stati prelevati dal centro d'accoglienza dove risiedono per essere trasportati ai seggi con l'indicazione di votare per Matteo Renzi. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Davvero una pagina ignobile e per come sono accadute le cose in quel partito negli ultimi tempi ho il legittimo sospetto che non sia un caso isolato. A tutto questo De Magistris aggiunge una provocazione rivolta all'ex presidente del Consiglio e vincitore delle primarie del PD Matteo Renzi. Quello che accade alle primarie del Partito Democratico a Napoli e dintorni è veramente surreale. Non so, posso fare una proposta visto che Renzi ama i commissariamenti ci proponiamo a fare i commissari di tutto quello che accade. Non tarda ad arrivare la replica del sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto per il quale si tratterebbe di una vergognosa strumentalizzazione. È stato sollevato un polverone sulle primarie del PD ad Ercolano. È una vergogna che vengano strumentalizzati degli immigrati per gettare fango, per gettare veleno su una festa eccezionale alla quale hanno partecipato quasi 5.000 persone, su una festa eccezionale alla quale hanno partecipato più di 50 volontari. È una vergogna che si utilizzino questi mezzucci per condizionare una festa eccezionale. Gli immigrati ad Ercolano hanno tutto il permesso di soggiorno provvisorio. Ercolano è una città che riesce ad includere gli immigrati e non mi meraviglia che alcuni di loro abbiano scelto di venire a votare.